RS è rinnova plastica multifunzione brevettato ed unico che oltre a rinnovare il colore originale della plastica è adatto a PVC, vernice senza protezione, anche del legno, gomma, fibre di carbonio, neoprene e liner. Con differenti metodi applicativi puoi sfruttare il suo elevato potere sgrassante per pulire e rinnovare contemporaneamente dall'ossido e dal calcare, rame, alluminio, metalli e leghe anche zincati vernici senza protezione, liner PVC e neoprene dallo sporco assorbito e puoi utilizzarlo anche come antisiliconico per togliere i residui bianchi di silicone di altri prodotti di cera, ruggine, di pasta abrasiva dalla plastica e di nascondere piccoli graffi strisciate sulla carrozzeria togliendo i residui rimasti da contatto e riempiendo gli spazi dei graffi sulla vernice con funzione antiossidante e anticalcare per metalli e leghe, cromature e zincati e ti permette di stabilizzare plastica ridotta in polvere per tutti i materiali la finitura è subito idrorepellente e sarà asciutta al tatto terminato l'assorbimento resistente detergenti aggressivi e solventi verniciabile e termoresistente inoltre se devi rinnovare vernici scure e bloccare la ruggine con un'assolazione e senza bonificare a fondo è sufficiente aggiungere a RS un pigmento scuro il prodotto verrà assorbito sia dalla vernice sana che dalla ruggine bloccando la proliferazione per molto tempo con la possibilità di essere verniciato termoresistente senza possibilità che si stacchi come una verniciatura sopra un convertitore o per coprire macchie di corrosivi e segni di surriscaldamento sulla plastica RS non contiene cera, silicone o corrosivi e non lascia residui bianchi quando termina l'effetto è l'unico rinnova plastica e materiali multifunzione che unisce funzione estetica e tecnica per rinnovare e proteggere con la più lunga durata d'effetto i materiali dall'invecchiamento e dall'ossidazione che può essere anche causa di rotture del materiale come per la plastica d'inverno ma soprattutto è l'unico e inimitabile rinnova plastica multifunzione adatto a molti tipi di materiali che si può permettere di dimostrarti la più lunga durata d'effetto superando prove di resistenza a detergenti aggressivi e solventi che nessun altro prodotto concorrente è in grado di dimostrarti e conservato ben chiuso anche dopo l'utilizzo non ha scadenza R.S. è un prodotto italiano esclusivo e brevettato da Black Traction lo puoi ordinare sul sito e ricevere comodamente a casa ma non lo trovi su piattaforme come Amazon R.S. è un prodotto italiano esclusivo e brevettato da Black Traction R.S. è un prodotto italiano esclusivo e brevettato da Black Traction R.S. è un prodotto italiano esclusivo e brevettato da Black Traction R.S. è un prodotto italiano esclusivo e brevettato da Black Traction